Io ho cercato di portare un contributo, una riflessione che guarda diverse esperienze fatte in questi anni, intorno a tre questioni, a tre sfide importanti. La prima è quella che abbiamo di fronte un'esigenza, un'istanza di neopopolamento, cioè di rispondere in questo Paese a una crisi demografica grave come non l'abbiamo mai vissuto. E ogni processo di sviluppo deve intanto rispondere a questo. La seconda questione che mi sono posto è quella se l'investimento culturale deve essere un investimento in attrattività, quindi verso l'esterno, dei territori come quelli montani, che peraltro negli ultimi anni di popolazione ne hanno attratta, non sono in difetto di attrattività. Penso allora che l'investimento culturale debba essere essenzialmente un investimento operato sull'interno, operato per ricucire antropologie diverse che ormai sono presenti nei territori montani, del passato, del presente e qualche volta anche del futuro, che già abitano e non sempre coabitano felicemente in questi territori. L'ultima parola è idiosincrasia, che sembra una brutta parola, perché l'associamo di solito al tema dell'allergia, ma che vuol dire invece etimologicamente caratteri particolari, e cioè il tema che per essere efficace un investimento culturale deve essere idiosincratico, cioè adatto a quel luogo e fatto dalle persone giuste per quel luogo e per quell'intervento. Questo è il mio contributo.